Sì, si ripete l'iniziativa della consegna dei premi e delle menzioni agli ambasciatori d'Abruzzo. Ricordo che stiamo parlando di persone nate in Abruzzo e che hanno svolto un'attività lavorativa di lustro nel mondo o comunque fuori dall'Abruzzo. Per noi è molto importante che questi riconoscimenti vengano assegnati e che queste persone continuino a promuovere la nostra bellissima regione, che è una regione non grandissima, ma dalle grandissime potenzialità che grazie a loro arriva sui canali della conoscenza di grandi platee culturali, professionali, imprenditoriali, politiche. E quindi è giusto per noi sottolineare il loro percorso di vita e lo facciamo con grande onore. Io noto che quando vengono insegnati i nostri ambasciatori, in qualche modo loro questa responsabilità l'avvertono per sempre, cioè assumono quella missione, proprio nel modo in cui si è voluto fare. Quindi non una vicenda che si celebra e si consuma nell'occasione, ma un qualcosa che veramente produce e stimola il personaggio quindi a promuovere l'intera regione Abruzzo. Ne abbiamo tanto bisogno, fortuna anche che abbiamo davvero personaggi di straordinaria fama e saranno coloro i quali avranno anche l'onere di aiutarci a superare tante difficoltà, ma soprattutto a promuovere l'ambito territoriale della nostra regione. Questa onoreficenza io la dedico principalmente ai miei genitori, a mia moglie, mia figlia e al suo marito, che mi hanno sopportato in tutti questi anni, in tutta l'assenza della vita, perché ho visto mia figlia quando è nata e quando si è sposata. Ho iniziato la mia vita a girare dal 1984 con gli americani a Stoccarda e in giro per l'Europa, poi l'Italia mi ha assegnato al quartiere generale della Nato a Bruxelles quale rappresentante e ho fatto quattro anni lì. Successivamente ho girato in Albania, sempre come rappresentante della Nato per la valutazione delle forze armate albanese per farla entrare nella Nato, sono stato anche rappresentante della delegazione esperti italiani in Tirana e fine della mia carriera l'ho passato a Beirut. Però il colonnello non è stato solo attivo come militare nelle vesti Nato, nelle vesti di rappresentante di ufficiale dell'esercito italiano, anche e soprattutto negli eventi che purtroppo hanno colpito il nostro Abruzzo, come non ricordare Opi dove è stata conferita la cittadinanza onoraria. Io ringrazio il sindaco di Opi, Berardino Paglia, per avermi concesso la cittadinanza onoraria perché è una grossa soddisfazione essere riconosciuto da un intero popolo per questo onore qui. È stato a Opi nel 1984, quindi ha dato una grossa mano per il terremoto dell'84 al nostro paese, alla comunità, a tutto il territorio e noi abbiamo ritenuto, avendo un'amicizia anche con lui prolungata nel tempo, abbiamo ritenuto opportuno di dargli la cittadinanza onoraria perché secondo noi la meritava, quindi oggi anche questo premio rappresenta un po' anche il nostro piccolo paese, il nostro territorio che è nel Parco Nazionale d'Abruzzo, come sapete. Castel di Sangro in questo momento è un po' il centro d'Abruzzo, pur essendo un pochino periferico, per cui siamo orgogliosi anche del fatto che questa manifestazione sia qui. Io ho avuto la doppia sorpresa, la prima di avere la notizia che non conoscevo, io non sapevo neanche di essere in Lizza, quando poi il sindaco di Castel di Sangro mi ha detto ti ho proposto e hanno accettato la tua candidatura, sono rimasto naturalmente sorpreso, colpito e poi naturalmente soddisfatto. Devo dire che il fatto di vivere questa situazione qui a Castel di Sangro mi fa sentire ancora più orgoglioso di aver portato non solo l'Abruzzo ma anche questo paese un po' fuori dai soliti canoni ed è bello perché quando vivi in certi ambienti fai fatica a tirarti fuori, si vive e si guarda sempre alle solite cose, alle solite giornate, poi vivi fuori e non vedi l'ora anche di tornare. Per me è un onore aver preso questo premio di ambasciatrice d'Abruzzo, spero di saper rappresentare questa terra come si deve. Come ho detto quando mi hanno premiato, per me l'Abruzzo è soprattutto è una regione che esprime persone umili, semplici, che però non hanno avuto una vita facile ma che se la sono saputa, che hanno saputo affrontarla con impegno e con serietà. Stasera ho l'onore di ritirare il riconoscimento per Filippo Frattaroli, come ha detto la consigliera ha fatto tantissimo e farà tanto per questo territorio. Lui purtroppo oggi non è presente però ci sta con la testa qua. Per me è un onore essere qui, è un onore aver portato l'Abruzzo sul tetto del mondo insieme ad Amedeo Pomiglio. Purtroppo sono andato via da questa terra a 16 anni, quindi me la sono coltita un po' poco, però quando posso ci torno ben volentieri e non mi faccio mancare niente. Pescara è la tua città, dove vive anche tuo padre, la tua famiglia, è stata sempre un'occasione bella il fatto di poter essere qui presente. Secondo me l'Abruzzo è onorato, piacevolmente colpito anche da questo fenomeno della palla a nuoto. Sì, sono anch'io colpito per questa prima azione che non mi aspettavo sinceramente. Sì, sono di Pescara e quest'anno soprattutto ho passato tutte le mie vacanze qui a Pescara, non sono andato fuori per godermela il più possibile. Domani sono già in partenza, quindi mi dispiace un po', ormai tornerò a Natale, però sono stato veramente bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.